Un uomo che vendeva noccioline a un euro a pacchetto si trovava al parco per lavorare. Un giorno alle 19 in punto di sera c'era un tizio che stava facendo footing. Correndo, correndo, si avvicina al venditore, paga un euro per le noccioline, ma le noccioline non se le porta e se ne ritorna a correre. L'indomani la stessa storia. Il tizio si avvicina al venditore, paga un euro, le lascia le noccioline e se ne ritorna a correre. Questa storia dura per mesi e mesi, finché un giorno il venditore decide di fermare il tizio. Il tizio, vedendosi fermato, si rivolge al venditore e gli dice Sì, lo so perché mi ha fermato. Eh, capisco, lei vuole sapere perché ogni volta io pago un euro di noccioline e le noccioline non me le porto mai. Risponde il venditore. Ma sinceramente io l'ho fermata per fargli sapere che le noccioline non sono più un euro, ma sono due euro, sono aumentate. Sì, lo so perché mi ha fermato.